Questa mattina l'amministrazione comunale di Caltanissetta presenta il progetto e-commerce, un'opportunità di sviluppo. Le imprese che vogliono partecipare al progetto cosa devono sapere? In pratica questa è un'attività che l'amministrazione comunale ha posto in essere proprio per sostenere lo sviluppo del comparto agroalimentare in quelle eccellenze che rappresentano il nostro territorio. Insieme a una società che ha una grande esperienza nella gestione dell'e-commerce è nata una collaborazione e quindi abbiamo cercato di coinvolgere le aziende nel pensare che l'utilizzo del web possa essere un modo per affrontare i mercati nazionali e internazionali. Quindi oggi presentiamo l'idea della piattaforma che vogliamo condividere e compartecipare con le aziende che sono interessate a promuovere la produzione del comparto agroalimentare, del comparto dell'artigianato che è ampiamente rappresentato nel nostro territorio. Di cosa si occupa la vostra agenzia e cosa può fare per Caltanissetta? La nostra agenzia è un'agenzia di comunicazione digital, abbiamo sede a Zurigo, a Milano e a Ocimine in Vietnam e ci occupiamo in prevalenza di tutto quello che è la comunicazione digital, intesa come e-commerce, come 3D, come siti, come app. Diciamo tutto quello che è rivolto al mondo della comunicazione online. Per Caltanissetta quindi cosa potete fare? Per Caltanissetta abbiamo pensato ad un progetto che poi di fatto è una cosa molto semplice che è già esistente ma siccome normalmente manca una parte poi di promozione verso un qualsiasi sito venga fatto abbiamo abbinato le nostre competenze sia per quanto riguarda quelle tecniche sia appunto per quanto riguarda quello di promozione poi vero e effettivo di territorio non solo in Italia ma a livello europeo e quindi abbiamo presentato al nostro sindaco Giovanni Luvolo la nostra idea di mettere insieme delle aziende e di vedere se riusciamo a far uscire dal territorio i nostri prodotti tipici appunto della zona. Detto più chiaramente per farlo capire meglio, quindi le aziende di Caltanissetta si pubblicizzeranno sul web? Le aziende di Caltanissetta entreranno in un contenitore più aziende questo anche per contenere un po' i costi di un e-commerce e di una promozione che comunque avrà un lancio a livello europeo e noi li aiuteremo a vendere prodotti locali all'estero.